Tele-selezione Buongiorno a Michela Marzano Deputata del Partito Democratico Editorialista di Repubblica Che oggi sul quotidiano di Largo Fochetti Ha preso carta e penna E ha detto sì, sono d'accordo con la Boldrini C'è un'umiliazione della donna In questo spettacolo La saluto, qui con me c'è Roberto Corradi Onorevole Marzano ci spiega bene Perché sottoscrive questa tesi? Dunque, sottoscrivo questa tesi Perché effettivamente Se si guardano un po' le trasmissioni Della televisione italiana Ci si rende conto che c'è Una presenza molto relativa delle donne Cioè le donne continuano Nonostante tutto ad essere presenti Ma come sfondo Come se si trattasse un po' di oggetti Del decoro piuttosto che come Persone capaci esattamente come gli uomini Di poter esprimere opinioni Di poter dare il proprio punto di vista Di poter ragionare Per cui effettivamente Stiamo di fronte ad un problema Cioè nel 2013 Nel momento in cui tutti Sembrano essere d'accordo Sull'uguaglianza Sulle pari opportunità Che caratterizzano le donne e gli uomini E poi in realtà Quando si tratta di Vederle all'opera Cioè di permettere alle donne Di esprimere le proprie competenze La propria capacità di argomentare La propria parola In realtà Tanti programmi Tante trasmissioni televisive Fanno difetto Eh ma allora Per decreto Questo Ipotetico gap Lei scrive nel suo articolo Una ricerca dell'ONU Rivela che solo il 2% Le donne parlano su temi Sociali e professionali Cioè si cancella Miss Italia Si mettono un po' di brachettoni E miracolosamente Si promuovono le donne intelligenti Io non ci credo No no ma nemmeno io Non si tratta né di decreti Né di cancellare necessariamente Delle trasmissioni esistenti Poi in realtà Io non penso che la presenza Di una trasmissione come Miss Italia Sia responsabile di questa situazione Di arretratezza culturale Perché ancora una volta Il problema italiano Non si può risolvere A colpi di decreti O a colpi di leggi Il problema italiano È un problema culturale Allora Miss Italia Effettivamente Non è una trasmissione Che a me piace particolarmente Ma perché no Esistono delle Miss In tutto il mondo E non è quello Che impedisce poi alla donna Di essere altro Il problema forse Anzi credo che sia questo Il problema nella televisione italiana È l'assenza di modelli alternativi Quindi non si tratta di cancellare Necessariamente una serie di trasmissioni In cui le donne sono lì Per mostrare quanto sono belle Ma si tratta di permettere Alle altre Cioè a donne Che fanno scelte diverse Scelte alternative Di poter essere presenti E esprimersi Allora per esempio A me oggi fa molto piacere Potermi esprimere Però ancora una volta Ci si potrebbe chiedere Per quali motivo Le donne continuano sempre solo Ad essere sollecitati Su motivi femminili Mentre in realtà Avrebbero almeno in teoria Potenzialità Per poter affrontare Anche temi più direttamente politici Più direttamente sociali Più direttamente economici No ma questo è perché Oggi lei ha scritto L'editoriale su questo Non è perché Era certo Era semplicemente per dare un esempio Però appunto il problema Non è tanto quello Di cancellare per decreto L'esistente Ma di cambiare pian piano Il livello culturale Il livello sociale Per permettere In trasmissioni Per esempio di talk show Trasmissioni in cui si discute Di problemi reali Di far partecipare Tutte coloro che esistono Perché il problema Non si tratta di inventare Donne che non esistono Ma semplicemente di dare A tutti coloro che agiscono A livello politico A livello economico A livello culturale La possibilità di accedere A quella visibilità Che gli uomini già hanno Per mostrare che anche loro Hanno esattamente Le stesse potenzialità Io non per fare il provocatore Ma penso che anche gli uomini Viano lo stesso problema Anche gli uomini che esistono Tra virgolette Che sono molto intelligenti Spesso devono cedere il passo A uomini più visibili Che magari hanno un'aura Cioè vuol dire Nessun uomo si sente umiliato Se il calciatore del Milan Parla per ore E viene intervistato Come un saggio Sì, no, no Io sono d'accordo Sono d'accordo Il problema non è tanto Essere umiliati Se la subretta La cantante Prendono la parola E parlano Il problema Per le donne Più che per gli uomini È l'assenza di altro Cioè esistono anche Uomini diversi Che hanno carismi diversi Che hanno talenti diversi Che sono presenti E che sono visibili O che sono più visibili Di quelle donne Che invece Hanno difficoltà Di avere accesso Poi al dibattito pubblico Ma è così? La più importante Showman Italiana Forse è Luciana Littizetto Qualcuno l'ha discriminata È la donna È più sapida Arguta Fa volare le curve di ascolto E ahimè Lo so io Che l'ho sfidata Non mi pare Che ci sia Una qualche discriminazione Perché è donna Alba Parietti Una delle opinioniste Diciamo Più trasversali Più gettonate Una donna Intelligentissima Se poi ha ballato Sono a fare i suoi E la cosa Non mi colpisce Editorialiste Come Maria Giovanna Maglie Ex Miss Italia Come Miriam Leone Conducono dei programmi Con grande professionalità Cioè c'è Possiamo dire Che di fronte La donna La regina della domenica Di Canale 5 Può piacere o non piacere Però la D'Urso È una donna È anche abbastanza Come dire Rocciosa Cioè dove sarebbe Questa discriminazione Cioè ci sono direttori Dei telegiornali donna Ci sono conduttrici donne Cioè non vedo Una ghettizzazione Delle donne No Però tra ghettizzazione Che effettivamente Per fortuna Non siamo più di fronte A un fenomeno Di questo tipo E ancora Una percentuale Così bassa Questa ricerca Dell'ONU Che è stato fatto Calcola che Il 2% Delle donne Sono presenti Quindi è proprio Anche a livello Quantitativo Allora io non sto dicendo Che per quantità Le donne Devono necessariamente Essere presenti Però siccome Quantitativamente Rappresentano Almeno metà Dell'umanità Per quale motivo Non devono rappresentare Metà Dell'umanità Presente in televisione Cioè è una questione Anche proprio Di percentuale Quelle poche Che riescono Ad essere presenti La Letizietto Bravissima Però di fronte A una Letizietto Quante sono Tutte quelle donne Che potrebbero intervenire Sui dibattiti pubblici Potrebbero dare Il proprio punto di vista Potrebbero argomentare E non lo fanno Perché c'è anche Una resistenza Allora Tra l'altro Con questo Non voglio dire Che accada Solo in Italia E questo È un dibattito Che conosco Che bene C'è anche in Francia Sì C'è anche in Francia Nel senso Che sistematicamente Si cerca Di mettere in evidenza Il fatto Che le donne Che partecipano A dei dibattiti intellettuali A dei dibattiti politici Sono molto meno Rispetto agli uomini E spesso La risposta Che viene data Da alcuni uomini È quella di dire Ma in realtà Le donne Noi le sollecitiamo Però loro Per problemi di fiducia In loro stesse Non accettano E questo Effettivamente È falso Invece Perché ci siano Talvolta Problemi di autostima Per carità È vero per gli uomini Esattamente come È vero per le donne Però è la scusa Che viene messa Davanti Per spiegare Per quale motivo In un dibattito In cui partecipano Non so Sei O otto persone C'è una donna Quindi è un dibattito Effettivamente Che da tempo A me capita spesso Di fare dibattiti Con otto persone E una donna Cioè per esempio Magari Dovendo invitare Esponenti del governo Capita spesso Che essendo un governo Prevalentemente maschile Inviti ospiti Prevalentemente maschili Certo Ma infatti questo Lei ha perfettamente ragione È il problema In realtà poi Che si riscontra In televisione È un problema Più generale A livello della società Cioè nonostante tutto Le donne sono minoritarie In posizioni di responsabilità E ancora una volta Il problema È quello Che sono minoritarie Nonostante Il fatto Che mostrano Sempre di più Di avere competenze Uguali E talvolta anche Superiori A quelle maschili Quindi effettivamente È un problema Che va Purtroppo Molto al di là Del semplice problema Televisivo Bene Allora Grazie A Michela Marzano Che sicuramente Ha portato il dubbio Dentro questo dibattito Noi la inviteremo sempre E quindi Buon lavoro E buongiorno Grazie altrettanto Dobbiamo fermarti